E molto spesso, cari amici, noi non possiamo acquisire pace nell'anima, non possiamo vedere un'immagine positiva, non possiamo neanche immaginarci una fine positiva, perché siamo spaventati da altri esempi già sentiti da qualcuno, e quando non c'è pace nella tua anima, non permetti allo Spirito Santo di manifestarsi, superare la tua anima, e manifestarsi nel mondo fisico, tramite la quarta dimensione, tu puoi controllare, un evento nella tua vita, Amen, tu puoi avere un incluso su un evento che sta per accadere nella tua vita, voi non capite, un dottore mi ha detto che una volta mi porto una donna, una vecchia vergine che non poteva sposarsi, non riusciva, lui mi ha detto, prendete questo foglio, e una penna e scriva, che marito vuole, lo vuole grasso o magro, e ha detto abbastanza magro, e ha risposto a tutte le domande, ha detto, si legga tutti i giorni questo foglio che ha scritto, e se lo immagini tutti i giorni, dopo sei mesi è venuto da noi in chiesa, un insegnante di musica, e lei aveva scritto che suo marito avrebbe dovuto occuparsi di musica, e c'erano tantissime bellissime ragazze, e lei aveva già una certa età, diciamolo, ma lei aveva preso una sbandata tale per lei, che non la faceva passare, e si sono sposati, e nel matrimonio loro hanno preso, hanno letto tutto quello che avevano scritto nel foglio, e poi hanno riuscito il foglio, e hanno buttato nell'aria, e hanno detto basta, questa è la quarta dimensione che funziona, cari amici, se oggi ti vuoi tranquillizzare, e tu devi sapere che devi imparare a vedere malgrado, quando sembra che ora sia tutto finito, io ho un segreto, io prego e dico Dio, 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 ti supplico, vedi in il mio passato, e fai un miracolo, è una fulia, ma lo fa ogni volta, Dio, quando glielo chiedo, voi siete in corpi limitati, quindi voi non potete subire i confini del vostro corpo, è vero o no? ma Dio vi ha dato l'immaginazione, e l'immaginazione è una cosa della quarta dimensione, e voi potete tramite la vostra immaginazione, vedere il futuro.